Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46 e sono appena tornato da Roma, mi sono fatto 6 ore di macchina perché sono stato a Roma appunto per il Romics. Durante questo weekend mi sono divertito tantissimo, mi ha fatto veramente tanto piacere incontrare moltissimi di voi che sono venuti a chiedere una foto, a stringere la mano, mi avete fatto veramente felice. Inoltre sono tornato a casa non con un draghetto piccolino come quello dell'altra volta ma con il fratello maggiore. Però ovviamente visto che sono appena tornato bisogna recuperare ciò che non sono riuscito a fare nei giorni precedenti. Intanto vi ringrazio per il supporto che mi avete dato negli altri video e ci tengo anche a ringraziare ognuno di voi perché il canale è arrivato a 40.000 iscritti. Io non ho più parole davvero, il supporto è stato incredibile. Inoltre so che ci sono anche parecchie persone che però guardano i video, li guardano anche tutti però non sono iscritte quindi se ancora non l'avete fatto vi invito a cliccare il tasto iscriviti che trovate qui sotto in rosso tanto non costa nulla anche perché nelle prossime settimane dai prossimi giorni in poi arriveranno dei video veramente interessanti quindi è meglio se non ve ne perdete neanche uno. Vediamo di non perdere tanto altro tempo e saltiamo direttamente all'argomento del video di oggi. Come vi stavo dicendo sono tornato da Roma e infatti in questo weekend ci sono state delle novità delle novità che non sono riuscito a portarvi immediatamente. E ovviamente la novità principale è stata la presentazione barra annuncio più che altro della GTX 1050 e della GTX 1050 Ti. Due schede video proposte da Nvidia che la versione Ti uscirà verso metà ottobre mentre la versione normale uscirà verso fine ottobre. Sono due schede video che andranno a posizionarsi sul mercato più o meno sulle cifre teoriche di 119 dollari e 149 dollari. Come abbiamo già visto con le varie uscite delle altre schede video abbiamo visto che di solito con il cambio il prezzo è sempre levitato ovviamente perché c'è il cambio euro dollar in più c'è l'IVA eccetera. Abbiamo avuto invece una situazione anomala per quanto riguarda l'RX 460 visto che da noi si riesce a trovare anche un prezzo di 109-115 euro. Non sono riuscito a capire effettivamente come ha fatto arrivare sul nostro mercato con questa cifra. A mio parere appena arriveranno queste due nuove schede video e appena si stabilizzerà un attimo il prezzo penso che potranno andare più o meno tra i 120-150 euro per quanto riguarda la 1050 e tra i 140 e 200 forse a voler esagerare per quanto riguarda il prezzo di partenza della 1050 Ti. Queste due schede saranno ovviamente le dirette rivali per quanto riguarda AMD della RX 460 e della RX 470. Per quanto riguarda la 460 a mio parere rimarrà in ogni caso un ottimo acquisto visto che come vi ho già detto si può trovare ad un prezzo veramente ridicolo di 100 e qualcosa euro. Per quanto riguarda la RX 470 a mio parere il prezzo è troppo alto perché va a sconfinare il prezzo della 1060 da 3 giga dove a mio parere non c'è minimamente dubbio sull'acquisto. Se dovessi scegliere tra una RX 470 e una 1060 da 3 giga andrei su 1060 da 3 giga tutta la vita. Vediamo un attimo però le caratteristiche di queste schede video oltre il prezzo. Entrambi i modelli ovviamente sono dotati di RAM DDR5 e ci saranno rispettivamente le versioni da 2 e 4 giga. Ovviamente per la 1050 si partirà dai 2 giga mentre per la 1050 Ti si partirà dalla versione da 4 giga. Per quanto riguarda Q da Core e Compute Unit parliamo rispettivamente per la 1050 di 40 Compute Unit e 640 Q da Core mentre per la versione un po' più pompata diciamo parliamo di 48 Compute Unit e 768 Q da Core. A quanto si è potuto vedere dai benchmark quest'ultima scheda ovvero la 1050 Ti le performance dovrebbero essere molto molto simili a una 960 che si era stabilizzata più o meno intorno a un prezzo di 180-200 euro o 200 e qualcosa per altre versioni. Però ovviamente questa scheda oltre ad essere di una generazione più nuova introdurrà anche tutte le nuove funzioni portate da Nvidia. Inoltre entrambe le schede quindi sia 1050 che 1050 Ti hanno una caratteristica che si accomuna al RX 460 ovvero il consumo. Entrambe le schede infatti non sono dotate di alimentazione esterna ovvero possiamo collegarle direttamente alla nostra scheda madre senza dover andare a collegare un altro cavo di alimentazione dall'alimentatore. Questo cosa significa? Minor consumi e probabilmente possiamo aspettarci anche una temperatura più bassa. Questo cosa vuol dire? Nonostante queste schede siano molto piccole, consumino poco eccetera potremo avere un buon margine di overclock più che altro sulle versioni che verranno vendute dalle terze parti quelle con un PCB magari modificato e un'alimentazione esterna. A mio parere entrambe le schede saranno l'apri porta per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo del gaming e o vogliono spendere poco oppure si accontentano di essere dei giocatori occasionali visto che con queste due schede senza nessun tipo di problema dalle aspettative si potrà giocare tranquillamente a tutti gli ultimi giochi di nuova generazione ovviamente facendo qualche compromesso come dettagli, risoluzione eccetera anche se parlando di risoluzione io penso che riusciranno entrambe a far andare tutti i giochi in 1080 abbassando solo i dettagli come abbiamo potuto vedere con la 950 oppure con la RX 460 per quanto riguarda la 1050 che ci sarà il taglio più piccolo da 2 giga non ci sarà nessun tipo di problema perché come vi ho già detto e come ho spiegato in un video che vi lascio qui in una scheda la quantità di RAM utilizzata per giocare in Full HD che è diciamo la risoluzione pensata per queste schede con dei dettagli a medio per avere un framerate decente non supererà mai in nessun tipo di caso i 2 giga di RAM quindi anche avere una 1050 da 4 giga non avrà un gran senso se non per applicazioni che vanno a utilizzare appunto la RAM video inoltre prima di chiudere il video ci tengo a fare una considerazione sono molto felice di come il rapporto di prezzo prestazioni sia sempre diventato più alla portata di tutti mi ricordo che qualche anno fa con 300-400 euro si riusciva a fare una configurazione che più o meno riusciva a far andare qualche gioco limitandosi a usare per forza o quasi la scheda video integrata del processore adesso con lo stesso budget si riesce a rimanere su quel prezzo con una scheda video come può essere la 1050 in questo caso o la RX 460 che ci permettono di giocare a praticamente qualsiasi gioco come dicevo prima soprattutto per chi vuole spendere poco avendo un rapporto prezzo prestazioni veramente incredibile fino a qualche anno fa non consigliavo di acquistare schede video al di sotto dei 150 euro perché tutte le schede al di sotto di quella fascia di prezzo erano meno potenti delle schede video integrate nei processori a quell'epoca appunto per questo oggi anche chi ha un budget molto limitato con intorno ai 100-120 euro riesce a portarsi a casa una scheda che riesce a permettergli di giocare a molti giochi senza nessun tipo di problema o magari anche per chi vuole fare un upgrade su un pc molto vecchio con un alimentatore anche magari non troppo performante e avere un boost di prestazioni notevole con diciamo la spesa minima se riuscirò cercherò anche di recuperare un computer diciamo di 5-6 anni fa e andare a provare a mettere una di queste schede per vedere effettivamente i risultati vi annuncio anche che arriverà nei prossimi giorni penso barra prossime settimane dei test con slide più schede video probabilmente e andrò anche a rifettuare tutti i vari test che ho effettuato con il pc di 10 anni fa tra virgolette md visto che il processore era veramente un grosso problema con una configurazione intel 2 o 4 core vedremo un attimo cosa riuscirò a recuperare per vedere i risultati effettivi e se riuscirò andrò a effettuare anche un overclock su quel processore per vedere effettivamente quanto il clock anche sui processori vecchi nei vari giochi vada a influire sulle performance effettive detto questo direi anche che per questo video è tutto vi ringrazio di nuovo per il supporto che mi avete dato vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto un commento facendomi sapere voi cosa pensate di queste nuove schede video vi invito anche a passare sui vari social quindi instagram facebook eccetera che trovate nella descrizione perché tante volte soprattutto su facebook e instagram metto delle foto o dei piccoli video che non vedrete mai sul canale quindi direi anche che per questo video è tutto grazie ancora a tutti quanti e ci vediamo domani con un altro video ciao